Martedì 25 settembre andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island VIP, ma essendo già tutto registrato in rete circolano già le prime indiscrezioni.Dopo i litigi, i fallo anticipati e i tradimenti, A tutto il pubblico interessa soltanto sapere una cosa quali sono le coppie che si sono lasciate? Dalla prima puntata è veramente difficile come andrà a finire, ma ora arrivo le indiscrezioni. Stando a quanto diffuso da Gossip TV official, possiamo già sapere chi è riuscito ad uscire insieme da Temptation Island VIP.Stando a quanto rivela la pagina Instagram, quindi, ad essere rimasti insieme sarebbero soltanto Andrea e Alessandra e Niloufar e Giordano. Mentre avrebbero deciso di rompere sulle spiagge di Temptation Island VIP Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio e Ursula, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Ricordiamo che gli esposito sono usciti insieme alla prima puntata.Se queste indiscrezioni verranno confermate sono davvero un bel conto. Intanto sui social, c'è già chi scrive Bettarini e la Larini sono stati pizzicati insieme. Grazie per la visione!